Secondo la normativa nazionale le ASL devono adottare un atto aziendale per definire l'organizzazione e la gestione di poliambulatori ospedali, atto che poi la giunta regionale deve approvare e deliberare. Bene, in Puglia questo non sarebbe mai stato fatto, dunque sulla carta tutti i provvedimenti delle ASL sarebbero illegittimi. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle che con il gruppo di lavoro dedicato alla sanità ha studiato il caso e ha già fatto due interrogazioni parlamentari al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin senza risposta e oggi chiede di commissariare le ASL. A ribadire l'anomalia sono i candidati del Consiglio regionale e la candidata governatrice Antonella Laricchia. Sulla base di liste d'attesa e dati epidemiologici, spiegano i grillini, le ASL devono adottare il loro atto aziendale per definire così l'organizzazione delle strutture. Chiederemo l'accesso agli atti, annuncia Antonella Laricchia, e la possibilità di verificare che le ASL siano effettivamente in possesso di tutti questi dati. Chiediamo con una serie di accesso agli atti alle ASL e alle due aziende ospedalieri pugliesi di vedere il loro atto aziendale e i fabbisogni esistenziali e inoltre chiediamo anche all'assessore Pentastuglia come mai ad oggi non ci risulta che siano stati approvati gli atti aziendali delle aziende ospedaliere.